va bene allora in realtà il presidente al momento non è in fondazione crc quindi iniziamo e se nella mattinata riuscirà a raggiungerci farà un saluto altrimenti diciamo come l'avesse fatto siamo ospiti a casa sua quest'oggi quindi prima di tutto ringraziamo fondazione crc per aver finanziato il progetto per accoglierci questa mattina in questa sala piacevole e chiamerei per un breve saluto il presidente di agrion di fondazione agro e un giacomo ballari no non avevo acceso colpa mia buona buona mattinata buongiorno a tutti benvenuti credo sono contento che oggi ci sia questo momento di restituzione di una serie di lavori fatti progetto impostato alcuni anni fa ma come si vede dalle presentazioni abbasta che ha centrato abbastanza quelle che sono alcune criticità che abbiamo vissuto nelle aziende quest'anno molti di noi la fidelanigero patina bianca quest'anno forse un po di meno ma gli anni precedenti colpo di fuoco che quest'anno ha avuto una incidenza in alcune areali del del piemonte del cuneese molto importanti quindi a me preme intanto ringraziare tutti voi qua presenti ringraziare l'università per averci coinvolto in questo progetto e aver quindi essersi aggiudicata questo bando di fondazione cassa risparmi cuneo mi preme ringraziare la fondazione per aver messo a disposizione ancora una volta delle risorse per cercare di dare soluzioni a quelli che sono i problemi della filiera frutticola piemontese e credo che questo sia l'esempio con questo chiudo di un modo certosino quasi da formiche di trovare delle soluzioni ma di dare gli strumenti alle aziende per affrontare la fantomatica transizione ecologica di cui si parla costantemente ma poi spesso si fatica a comprendere come riusciamo a concretizzarla all'interno delle aziende e spesso rischia di diventare se non ci sono gli strumenti per gestire certe emergenze una spadona di damocle ulteriore in una situazione di crisi come quella attuale ai me del settore frutticolo il tentativo è questo in maniera molto pratica e concreta assieme però alle competenze del mondo della ricerca e dell'università e con il supporto siete qui molti presenti e quindi permettetemi di ringraziarvi tutti dei tecnici di consulenza aziendale del coordinamento frutticolo e cercare di giorno dopo giorno ricercare delle soluzioni ovviamente sostenibili sottointeso nel gestire queste queste emergenze perché spesso quando troviamo la frutta del piemonte la mela rossa o cose di questo genere al mercato fatichiamo a comprendere quante difficoltà c'è per far arrivare questo prodotto in quelle condizioni sulle tavole del consumatore e credo invece sia veramente importante questo impegno in termini di ricerca applicata e di consulenza alle aziende nel cercare di superare queste criticità la frutticoltura in piemonte in questo reale un patrimonio agroalimentare ma economico importante qui non possiamo fare a meno e quindi il dare delle soluzioni e il sistema per dare un futuro al settore frutticolo augurerei mi fermo qua buon lavoro a tutti spero possa essere una giornata proficua è ovvio che qui su questi lavori si continuerà ad andare avanti nei prossimi anni perché ahimè vorremmo ma non su tutto siamo già giunti a delle soluzioni definitive comunque sono convinto che questo gruppo di lavoro possa dare veramente molto in termini di soluzioni grazie e buon lavoro grazie a giacomo e chiamerei qui il scusate no devo passare non so come fare ad uscire devo dare la parola a me stesso però dovrei uscire da questa cosa ok io magari rimango qua visto che è più comodo ok qualche minuto solo per presentare il progetto il progetto si chiama smart apple è un progetto che è stato finanziato con un bando agroalimentare 4.0 il bando ed è iniziato poi il primo marzo del 2019 il titolo insomma tecnologie innovative smart per la produzione sostenibile di mele aveva come target principalmente quello di cercare di capire quali sono le problematiche fitopatologiche entomologiche fitosanitaria emergenti su alcune varietà di melo resistenti a ticchiolatura che si stanno diffondendo nel nostro areale produttivo piemontese quindi storino red opal crimson crisp fusion smeralda in realtà abbiamo messo anche l'ambrosia l'ambrosia per la sua rilevanza come crescita certo in questo caso non resistente a ticchiolatura ma utile anche per lavorare per capire quali sono le problematiche su su questa varietà il progetto era formato da cinque work packages cioè insieme di attività un uno di coordinamento uno di comunicazione disseminazione e poi avevamo un work package 2 dedicato più alle strategie di difesa utilizzabili in campo un work package 3 dedicato alla diagnostica sviluppo di tecniche di diagnostiche innovative e un quarto dedicato invece alla conservazione della frutta il partenariato è stato abbastanza ampio e vorrei ringraziare forse dimentico sicuramente dimentico delle persone però almeno una trentina di persone che in questi anni hanno contribuito alla realizzazione delle attività in particolare il progetto è stato coordinato dall'università di torino quindi ci sono state moltissime persone che hanno contribuito alle attività dalla stretta collaborazione con agriano che appunto ormai una partnership consolidata e che ci permette di lavorare bene facendo ricerca applicata alle problematiche del territorio il bando prevedeva anche un contributo di enti internazionali abbiamo stabilito una collaborazione con laro volcani center in israele e con gli usdi e degli stati uniti con cui abbiamo lavorato in parte e il progetto era sostenuto e insomma ha avuto anche il contributo economico di tre op l'op rivoire l'op il lagnasco e orto fruit italia quindi ci tengo a ringraziare perché senza il contributo di insomma di tutte queste parti non sarebbe stato possibile realizzare attività il progetto ha avuto un finanziamento di 259 mila euro con un cofinanziamento da parte delle tre op poi in mezzo come tutti i progetti di questo periodo storico c'è stato il covip che ha bloccato praticamente un anno di attività di ricerca quindi abbiamo chiesto a fondazione crc una proroga e il progetto finisce adesso quindi il 28 febbraio 2023 ed è durato nella pratica quattro anni riguardavo ieri le varie persone che sono state in qualche modo finanziate per la loro attività lavorativa e sono state un bel numero sia da parte dell'università sia da parte di agron quindi per questo ringraziamo la fondazione ho messo solo qualche esempio di disseminazione perché comunque nel e non è esaustivo sicuramente ma negli ultimi anni diverse pubblicazioni a sono state sono uscite e riguardano hanno riguardato varie problematiche relative al melo non sono esaustive perché proprio giusto una carrellata però relativamente alla diagnostica di furia al microbioma del melo nuove malattie un saggio diagnostico ramularia impiego di oli essenziali microbioma della frutta insomma sono state molte le attività finanziate e già pubblicate i lavori sono anche stati presentati a convegni nazionali internazionali è uscito un lavoro sulla rivista di frutticoltura abbiamo avuto riunioni nel nostro caso semestrali con agron ma agron in realtà settimanalmente ha il coordinamento quindi è stato un grosso motore per favorire lo scambio di informazioni di dati lo scorso anno abbiamo realizzato un seminario tecnico scientifico il 9 febbraio più o meno in questo periodo e oggi abbiamo questo che un po il convegno finale per il convegno finale abbiamo scelto di non trattare tutto quello che è stato fatto nei quattro anni che sarebbe diventato eccessivamente lungo abbiamo concentrato l'attenzione su alcune tematiche più rilevanti per concludere ci tengo ancora a dire che comunque il progetto smart apple ha in qualche modo favorito l'attrazione di fondi di ricerca creato collaborazioni quindi è stato sicuramente molto utile per creare collaborazioni di ricerca sottolineo per esempio un progetto et food clean fruit che abbiamo avuto insieme di nuovo alla professoressa tavella e ad agrion sulla produzione di mele e fragola residuo zero un progetto fresco sulle sostanze di base un progetto prima sulle riduzioni post raccolta adesso abbiamo il piano nazionale di recupero e resilienza dove nel centro nazionale abbiamo un dottorato attivato che inizia oggi giulia sul melo abbiamo lavorato sull'identificazione di agenti di patina bianca con un centro in olanda e c'è stata anche una collaborazione forte con line burga in alto adige con cui abbiamo adesso iniziato un dottorato su ramularia e con fondazione mac che finanzia un'attività sulla patina bianca quindi l'attività che ha permesso crc in realtà si è ribaltata su moltissimi altre insomma possibili collaborazioni progetti direi di non perdere altro tempo quindi possiamo iniziare con la prima presentazione invito qui davide nari e la la sua presentazione sarà il miglioramento genetico al servizio di una frutticoltura più sostenibile varietà resistente articolatura e tolleranti al colpo di fuoco batterico a te grazie devi schiacciare il ok adesso buongiorno a tutti grazie grazie ecco che io so di andare avanti con la presentazione c'è grazie ecco nella mia presentazione parleremo sì di varietà resistenti a ticchiatura ma anche di tolleranti a colpo di fuoco batterico e facendo anche un focus sulle varietà oggetto del progetto vedendo un po dal punto di vista fitosanitario cosa è un po emerso dal punto di vista sensibilità ed eventuali tolleranze vediamo sempre di più che la scelta varietale e di porta innesto è sempre di più un qualcosa che va a incatenarsi all'interno della gestione dal punto di vista di prevenzione cura di una patologia o di un insetto dannoso ecco per cui va sempre di più integrarsi a quella che è la normale gestione fatta con la rotta chimica biologica gestione agronomica per cui la scelta varietale non va vista solo più come da un punto di vista di scelta di tipo aziendale commerciale ma anche di scelta di un materiale che mi permetta di gestire al meglio quelle che sono le problematiche fitosanitarie siamo qui a parlare di me lo vediamo un po velocemente quali sono i numeri del mele in piemonte come vedete un trend sicuramente in molto in crescita siamo arrivati a superare i 7 mila ettari di questi quasi il 25 per cento in piemonte sono condotti attualmente in biologico le varietà resistenti anche qua sono molto in crescita siamo arrivati a circa 500 ettari parliamo per cui di oltre il 6 per cento dell'intera superficie di melo coltivata con varietà resistente a ticchiolatura la resistenza non dimentichiamoci che attualmente per tutte le varietà commerciali coltivate è una resistenza di tipo monogenica data dalla presenza di questo gene vf una resistenza che si forte ma che può anche non essere così duratura nel tempo se arrivano razze mutate che possono superare appunto la resistenza per cui si ci fanno comodo ma attenzione alla gestione ecco della della resistenza dal punto di vista genetico questa può essere gestita attraverso la cosiddetta piramidizzazione piramidizzazione della resistenza che consiste nel portare più geni con diverso meccanismo di azione nei confronti del fungo della del batterio di quant'altra problematica all'interno della stessa varietà ecco oppure geni per problematiche diverse veniamo ora adesso a un po una carrellata di varietà tra le più interessanti che presentano resistenza a ticchiolatura o anche ad altre patologie iniziamo da l'epoca precoce per cui siamo qualche giorno prima di gala con questa varietà di recente introduzione civ m35 resistente a ticchiolatura di tipo monogenica caratterizzata da una grossa pezzatura con un aspetto attraente una polpa croccante su cosa un ottimo sapore molto dolce con bassa acidità sempre in epoca precoce per cui siamo qualche giorno dopo gala galino b anche questa una varietà resistente con resistenza monogenica con un frutto di media pezzatura con una colorazione sicuramente attraente nota negativa la produttività che abbiamo visto nelle valutazioni fatte ad agrio negli anni essere non sempre così costante ecco arriviamo adesso a un materiale che non è ancora stato brevettato ma sicuramente un materiale interessante soprattutto grazie alla presenza di una doppia resistenza per cui una resistenza per cui più forte come vi dicevo all'inizio interessante perché frutto di grossa pezzatura una buona produttività costante nel negli anni una polpa fondente e mediamente succosa un buon sapore dolce e mediamente aromatico per cui siamo un po agli albori per questo tipo di materiali con resistenze date da più geni ma sicuramente il percorso iniziato e per cui diciamo le prospettive future sono sicuramente buone il titolo della mia presentazione era anche la tolleranza al colpo di fuoco batterico esistono qualche varietà tolleranti una di queste è la dina varietà selezionata da agroscopi in svizzera resistente articolatura tollerante al colpo di fuoco batterico e video caratterizzata da un frutto tendenzialmente appiattito con questa colorazione rossa che come potete vedere dall'immagine sicuramente attraente una polpa soda è molto succosa un buon sapore acidulo aromatico arriviamo adesso crimson crisp era una delle varietà che come detto all'inizio il professor spedaro era oggetto del del progetto varietà resistente articolatura diciamo una delle prime varietà tre virgolette moderne introdotta in piemonte per quanto riguarda le resistenti le osservazioni di smart apple hanno confermato un po quello che già un po sapevamo dell'elevata sensibilità allo idio è quella della tolleranza alla fide grigio che sicuramente un buon punto per la varietà arriviamo adesso alla varietà magic star varietà con resistenza monogenica recentemente introdotta in piemonte già avviata sperimentazione estesa per cui siamo nei primi impianti varietà che presenta sicuramente buone prospettive e andremo a vedere come si comporterà nei prossimi anni in piemonte come vedete dalle immagini la tipologia di mele oramai nelle resistenti sono davvero le più disparate per cui abbiamo anche le granny smith simile come questa canopy altra varietà di recente introduzione resistente articolatura per una resistenza monogenica con un frutto di bell'aspetto con una forma regolare una pezzatura omogenea un sapore buono acidulo e aromatico arriviamo adesso opal una delle varietà sicuramente tra le resistenti più piantate in piemonte negli ultimi anni varietà club che monte parliamo di circa 120 ettari anche questa varietà oggetto del progetto dal progetto si è vista una media sensibilità oidio e una media sensibilità ad alternaria soprattutto visibile a fine stagione su un con problematiche evidenti su alcuni frutti magari un po più scoperti da trattamenti fungicidi da 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 un po di tempo ecco l'origno go siamo sempre come come opale qualche giorno dopo l'epoca di golden varietà resistente sicuramente interessante tra le golden simili una buccia gialla con questa faccetta sicuramente attraente una scarsa presenza di rugginosità un buon sapore equilibrato aromatico anche questa varietà già avviata alla sperimentazione estesa arriviamo adesso a smeralda anche qua siamo circa una settimana dopo l'epoca di golden anche questa varietà inserita nel progetto smart apple dal quale abbiamo potuto verificare confermare l'elevata sensibilità a cimice asiatica così come una media sensibilità a oidio vedete questa è un'immagine di un impianto pilota si conferma come una varietà molto generosa molto produttiva assicurano sicuramente poco sensibile ad alternanza produttiva per cui caratteristiche di tipo agronomico produttiva sicuramente molto interessanti arriviamo adesso un'altra varietà con una resistenza a picchiolatura ma unita anche a una tolleranza in questo caso idio e ad affide la niger in questo caso ancora da verificare in pieno campo ma sicuramente una varietà interessante per questi aspetti parliamo di garance le sping varietà che matura anche qui una settimana dopo golden altra varietà che matura una decina di giorni dopo l'epoca di golden delicious e mandino love varietà resistenza con una resistenza di tipo monogenica varietà con colorazione attraente una produttività regolare una media pezzatura una polpa fondente di buon sapore equilibrato aromatico anche questa varietà già avviata la sperimentazione estesa con buoni riscontri proseguiamo con candin regaliu altra varietà resistente e di recente introduzione per il piemonte incrocio di fuji per ariana varietà gestita in esclusiva calatizzata da un aspetto attraente un buon sapore dolce aromatica bassa acidità parliamo già circa di 40 ettari in piemonte veramente i presupposti sono buoni vedremo come si comporterà i prossimi anni passiamo storino red varietà anche questa presente nel progetto smart apple tra le varietà sicuramente più piantate tra resistenti in piemonte parliamo attualmente di circa 180 200 ettari presenti varietà molto generosa dal punto di vista produttivo con un frutto di bell'aspetto buon con buon sapore dolce una polpa mediamente su cosa tra le osservazioni di smart apple abbiamo sicuramente una media elevata sensibilità o idio una media elevata sensibilità fly spec così come una media elevata sensibilità carenze di boro varietà che risulta inoltre sensibili ai embrunimenti interni che abbiamo visto essere maggiormente presenti in presenza di basse temperature in preraccolta parliamo per cui di temperature in prossimità della finestra di raccolta che si avvicinano allo zero agli zero gradi più presente in impianti giovani con raccolte ritardate per cui con una degradazione dell'amido più più avanzata e con temperature inferiori in conservazione di due gradi centigradi e mezzo per cui attenzione a tutti questi fattori ecco arriviamo fujon adesso per cui parliamo di una fuji simile in epoca fuji anche questa presente nel progetto dalle osservazioni appunto fatta il progetto si evidenzia una scarsa sensibilità o idio e una media elevata sensibilità ad affidella nigero soprattutto anche questa data da un labitus vegetativo simile a fuji per cui un albero più vigoroso e per cui che ospita meglio l'insetto arriviamo adesso del correde altre varietà dall'aspetto simile a fuji varietà di recente introduzione resistente articolatura con una resistenza di tipo monogenica caratterizzata da un aspetto attraente con una colorazione rossa e con questa pruina molto evidente come vedete anche dall'immagine da verificare ancora la regolarità di produzione nei primi impianti pilota che sono stati messi a punto di mora l'anno scorso chiudiamo con dalinette ultima varietà in ordine di maturazione del progetto smart apple varietà resistente articolatura con tolleranza colpo di fuoco batterico in questo caso parliamo di una tolleranza anche qua già verificata nel pieno campo nel nostro areale per cui sicuramente due punti molto importanti per la varietà varietà che matura in epoca fuji con un ottimo sapore di tipologia acidulo aromatico in particolare dopo conservazione caratterizzata anche da un'ottima conservabilità io vi ringrazio per l'attenzione e chiudo qua grazie bene grazie davide direi visto che abbiamo iniziato un po in ritardo magari facciamo tutte le presentazioni poi apriamo la discussione allora passiamo a alla mia presentazione ok allora e per quanto riguarda insomma una un'attività che abbiamo svolto noi e in cui abbiamo voluto porre un po il il focus quest'oggi riguarda patina bianca e ramulari amali agente del marciume lenticellare asciutto in questo caso abbiamo iniziato lavorando in post traccolta e poco per volta in realtà ci siamo accorti che dovevamo andare a lavorare invece in campo per capire qualcosa sulle cause di queste di queste malattie per quanto riguarda il marciume lenticellare asciutto in questo caso è una malattia che è tipica specifica almeno non specifica ma molto diffusa su mele ambrosia caratterizzata da aree depresse scure marroni con margini irregolari un marciume secco che però appunto viene fuori dalle lenticelle dopo un po di mesi di conservazione quando si è iniziato a lavorare stato riportato inizialmente in piemonte dal fitto sanitario già nel 2011 quindi un po di anni fa poi è stato ritrovato anche in trentino e tirolo alto adige e dopo che nel tempo è venuto fuori anche in stiria in austria ci sono segnalazioni anche in francia quindi si è un po allargato e a parte l'ambrosia si è allargato anche ad altre varietà quindi una problematica emergente di magazzino la gente causale è stato isolato nel 2011 inizialmente identificato dagli olandesi come ramularia eucalipti con una riclassificazione del genere che fa sempre piacere ai tassonomisti in micologia è diventato poi ramularia mali effettivamente il tipo isolato in piemonte e quello specifico della specie recentemente è stato ritrovato anche come patogeno su drupace su vite quindi anche segnalazione le abbiamo da altre colture è un patogeno molto ostico molto lento anche in capsula ci vogliono due mesi per riuscire a ottenere la colonia quindi è veramente un po complicato a lavorare nell'ambito del progetto abbiamo cercato di effettuare un monitoraggio tra il 2018 e il 2020 in questo caso abbiamo isolato circa 60 ceppi di ramularia abbiamo svolto un'analisi molecolare per capire se ci fossero altre specie coinvolte e il risultato è che c'è solo ramularia mali in piemonte quindi non sono presenti altre specie nel frattempo però abbiamo iniziato una collaborazione con line burgh line burgh ha ramularia la stessa problematica su mele di varietà diverse e in realtà loro stanno verificando che mali la specie mali è prevalente ma ci sono anche altre specie quindi questa è una cosa appunto delle dell'ultima riunione che abbiamo svolto insieme e da lì poi è partito un dottorato in cotutela tra università di torino e fondazione line burgh una volta che noi avevamo capito che si trattava solo di una specie per il caso del piemonte abbiamo cercato di sviluppare un saggio diagnostico un lavoro che è stato in realtà molto complesso perché non riuscivamo a trovare la specificità a livello di specie e dopo vari tentativi alla fine siamo arrivati ad avere dei primer specie specifici per sviluppare una real time pcr quindi un saggio diagnostico molecolare che permette di identificare già in campo l'eventuale presenza di ramularia mali con una sensibilità e una specificità molto elevate quindi un saggio molto accurato che adesso line burgh e anche gli austriaci stanno utilizzando per rilevare la presenza di ramularia quando volevamo validare questo test abbiamo preso delle mele con sintomi di ambrosia e di golden delicious e chiaramente hanno dimostrato la presenza della del patogeno e poi in realtà volevamo prendere delle altre mele senza sintomi di gero mingala o pastorino red queste varietà oggetto del progetto per dimostrare che non era presente in queste varietà in realtà tutti i campioni quasi sono venuti positivi una buona parte e allora che cosa ci siamo resi conto che in realtà ramularia mali è presente come endofita quindi sta nella polpa dei frutti ma manifesta la malattia solo su delle varietà suscettibili quindi in realtà è presente anche su quelle che poi non mostrano nessun sintomo ecco questo il primo la prima parte di ramularia per quanto riguarda la patina bianca anche qui diciamo una neanche una malattia diciamo più un inestetismo che però deprezza il valore della frutta è ostico causato da basidi omicetti quindi funghi che sviluppano l'ormicello sulla superficie dei frutti e lasciano questa colorazione opaca questa pellicola cerosa sulla sulla superficie dei frutti anche in questo caso la domanda principale che volevamo avere era cercare di capire da dove venisse patina bianca gli agenti che la causavano chi è che la causasse e diciamo queste erano le prime segnalazioni sono state in alto adige in piemonte poco dopo a partire dal 2000 quello che è stato isolato inizialmente si chiamava tilleziopsis è stato chiamato così ci sono vari fattori predisponenti quindi alcune annate possono favorire località di pianura dove c'è un ristagno di umidità ci sono varietà più sensibili e poi tutto quello che favorisce un po ristagno di umidità quindi la presenza di reti antigrandine elevata vigoria dovuta alla fertilizzazione elevata densità di impianto possono ulteriormente favorire lo sviluppo di patina bianca e allora in questo caso abbiamo provato grazie alla diciamo all'aiuto di agriano a realizzare una rete tra fondazione agriano università di torino fondazione mac e fondazione lineburg e abbiamo effettuato monitoraggio biennale nei tre areali quindi piemonte trentino e alto adige in questo caso provando isolare da corteccia foglie frutti e poi piante infestanti presenti in frutteto tra giugno e settembre anche qua l'isolamento è un po' complicato perché bisogna raccogliere delle spore sparate dal micelio sulla piastra opposta a cui in cui viene cresciuto e sono chiamate ballistospore poi per l'identificazione invece ci siamo rivolti al Westerdijk Institute in Olanda al CBS e in questo caso abbiamo trovato in realtà tre specie con l'Ubevia palescens, Tileziopsis washingtonensis e Antiloma belangeri appartenenti a tre generi più anche qualche nuova assegnazione questo è un lavoro in cui si è concentrato soprattutto il professor Guarnaccia quindi in realtà è venuto fuori che Golubevia era la specie più presente in Piemonte e Antiloma era più presente in Trentino e Tileziopsis in alto adige praticamente avevamo tre specie che prevalevano in tre areali geografici diversi allora abbiamo detto forse c'è una prevalenza geografica però poi abbiamo fatto il monitoraggio nell'anno successivo e in Piemonte in realtà la situazione è cambiata perché è diventata prevalente la Tileziopsis allora diciamo non è facile uscirne fuori da questo per capire veramente chi è che maggiormente coinvolto ma siccome i funghi sono molto vicini filogeneticamente è inutile stare a spaccare il cappello sono questi insomma gli agenti maggiormente coinvolti a seconda anche delle annate e delle condizioni climatiche ecco poi abbiamo provato a riprodurre i sintomi ci abbiamo detto visto che abbiamo isolato questi funghi sono in grado di riprodurre la patina bianca e anche questo non è stato molto semplice comunque lavorando su storino red che ha buccia rossa e poi su ambrosia che invece è una buccia bicolore abbiamo visto che appunto su nelle prove varietà a buccia rossa era più semplice anche riprodurre i sintomi osservare la presenza della del micelio in particolare comunque golu bevia tra le tre era quella che riusciva a svilupparsi meglio ok poi insieme ad agrio nel 2019 e questo era inizio progetto comunque abbiamo provato ad applicare la tecnica della meta barcoding quindi della sequenziamento del microbioma c'è tutti i microrganismi presenti sulla superficie dei frutti abbiamo lavorato su ambrosia e opal cercando di isolare da epifiti vuol dire super buccia dei frutti e endofiti cioè polpa dei frutti tutti i funghi e i batteri che erano presenti con un metodo molecolare senza andare troppo nel dettaglio però abbiamo osservato che la varietà opal che viene comunque coltivata con una diciamo seguendo una strategia biologica aveva una maggiore biodiversità sulla superficie dei frutti rispetto all'ambrosia che invece avevano meno specie meno generi presenti quindi diciamo anche le pratiche culturali influenzano la biodiversità anche microbica presente sui frutti a livello di batteri se voi ci pensate i batteri si moltiplicano molto velocemente e quindi nei diversi tempi di campionamento la popolazione batterica cambiava molto velocemente quella fungine invece tende a rimanere stabile perché ci mette molto più tempo a cambiare e poi la popolazione dei funghi dipendeva molto dal dal fatto di lavorare sulla su cultivar diverse e di lavorare sulla buccia lì c'era più diversità invece nella polpa la popolazione più bassa più uniforme non cambia nel tempo ok andando a vedere i risultati che poi a noi possono un po interessare volevo mettere il puntatore eccolo qua ok ecco praticamente con questa freccia marrone si indica la presenza di ramularia a sinistra su ambrosia a destra su opal ecco qua siamo sulla buccia dei frutti ramularia su ambrosia eccola è questa compare invece non la osserviamo per esempio su ambrosia quindi compare solo su opal sulla buccia dei frutti golubevia che questo verde brillante lo vediamo anche compare da settembre sulla buccia dei frutti e non prima quindi abbiamo visto almeno da quello che avevamo osservato qualche li vediamo sulla buccia dei frutti a partire dalla raccolta da settembre se andiamo invece vedere la polpa praticamente di ambrosia che cosa è venuto fuori che già molto stupito che in realtà dentro la polpa dei frutti ramularia c'è moltissimo e c'è a giugno a luglio poi di meno ad agosto e settembre quindi è come se all'inizio fosse dentro la polpa dei frutti e poi viene in superficie e poi alla fine dopo la conservazione manifesta i sintomi allora un'altra domanda che ci siamo fatti ma se è dentro la polpa da dove arriva questo fungo e ancora una cosa rilevante che su opal anche c'era sempre ramularia ma poi ramularia lì non si manifesta quindi non sviluppa la malattia quindi nelle varietà suscettibili poi vediamo il marciume lenticellare secco dall'altra parte invece no allora va beh questo mostra un po quello quello che abbiamo detto anche relativamente la patina bianca ovvero che a livello di buccia c'era soprattutto il rosso il rosso vuol dire golubevia come agente della malattia quindi e confermava con i dati di incidenza di patina bianca nel tempo per quanto riguarda ramularia sempre facendo riferimento a quei dati giugno e luglio hanno la maggiore presenza di di ramularia e questo poi si abbassa in realtà diventa percentuale più basse va sulla superficie dei frutti ok vado a fare notare questo grafico ma senza entrare troppo nel dettaglio solo dicendo che sulla superficie dei frutti c'è un'interazione positiva tra ramularia e patina bianca quindi vuol dire che le condizioni che predispongono una malattia favoriscono anche l'altra quindi questo a livello epifitico e poi abbiamo iniziato questo con un lavoro che è stato abbastanza un parto è stato complicato arrivare alla fine a ottenere questi risultati presso il fruttetto di ambrosia e grazie alla collaborazione con rivoira che ha acquistato un captaspore abbiamo negli anni 19 20 21 monitorato cosa c'era nell'aria nel frutteto durante la stagione il captaspore prende l'aria la piccica su delle strisce che vengono poi estratte si va a vedere tutto il dna presente e allora 19 20 21 il campionamento era stato fatto da marzo fino a settembre ma i campioni da marzo giugno per vicissitudini varie non si è riuscito a estrarre praticamente niente allora abbiamo confrontato i campioni da giugno o luglio e settembre e che cosa era presente nell'aria se vedete c'è un verde molto evidente che in questo caso è cladosporium ma cladosporium c'è sempre da tutte le parti in frutteto è presente veramente tanto c'è questo oro rosa io non so bene identificare colori comunque diciamo che rosa che è molto presente ed è un lievito antagonista c'è alternaria che questo violetto che vediamo in basso ma in realtà nel tra giugno e settembre grossa ramularia non c'è nel frutteto allora abbiamo detto ma da dove arriva ramularia però almeno uno dei tre anni siamo riusciti a salvarlo e del 2021 che è l'ultimo in questo caso i campioni li aveva estratti giulia e è venuto effettivamente molto interessante ciò che abbiamo visto a livello di ramularia ramularia in questo caso è questo grigio più o meno indicato dalla freccia sale da marzo maggio praticamente il genere più rilevante presente nella terza settimana di maggio del 2021 così nella quarta inizio di giugno quindi in quel momento ne circola tantissimo nel frutteto allora siamo tornati un po indietro perché comunque lui è già presente a marzo e allora mettendo insieme tutti i pezzi praticamente l'ipotesi che abbiamo adesso però fresca nel senso abbiamo discusso agli ultimi giorni e che è presente in frutteto e viene rilasciato il presente quando c'è la fioritura dei frutti probabilmente tramite la fioritura penetra nel frutto perché poi noi lo ritroviamo nella polpa per arrivare nella polpa deve essere penetrato in fioritura si sviluppa fino a raggiungere il massimo a luglio e poi solo su varietà suscettibili tipo ambrosia allora compare come malattia sulla superficie dei frutti durante la conservazione questo però ci porta molto indietro di dove dovremmo intervenire perché a questo punto arriviamo vicino alla fioritura e e questo diciamo è la cosa insomma più rilevante che è venuta fuori da questa analisi degli ultimi giorni ecco l'ultima cosa è anche in tiloma quindi in questo caso sempre patina bianca annata 2021 comincia a comparire dalla prima settimana di settembre l'ultima di agosto prima di settembre quindi questi agenti di patina bianca invece non sono patogene però arrivano sulla superficie dei frutti poco prima della raccolta e quindi un tempo molto successivo ok ancora qualche minuto per quanto riguarda delle prove di post raccolta per la patina bianca noi abbiamo visto un minimo di attività forse promettente da parte di alcuni lieviti antagonisti applicati in post raccolta due ceppi della nostra collezione e tre prodotti commerciali in questo caso il nexi una candida oleofila noli di coppert una mescicabia frutticola e boni protect di manica un aureo basilium pullulans faccio notare che i nostri due ceppi sono aureo basilium e il prodotto di boni protect è sempre un aureo basilium ma avere la stessa specie non vuol dire che c'è la stessa efficacia effettivamente su mele ambrosia in questo caso sono cinque tempi diversi in cui siamo andati a monitorare l'incidenza di patina bianca il testimone inoculato ha dei dati di incidenza molto alti i boni protect favorisce la patina bianca quindi aumenta la presenza di patina bianca l'abbiamo visto più volte questa cosa tra i prodotti che ha mostrato una certa efficacia c'è il nexi e anche uno dei nostri ceppi poi abbiamo anche qua fatto l'analisi del microbioma presente sui frutti sulla buccia questo rosa chiaro e aureo basilium quindi le due tesi inoculate mostrano che aureo basilium occupa lo spazio si occupa lo spazio riduce lo spazio degli agenti di patina bianca quindi c'è una specie di competizione sulla superficie dei frutti e c'è dentro la polpa degli stessi frutti trattati di un viene internalizzato quindi è un ceppo che entra facilmente all'interno e poi rimane dentro i frutti ma quindi questo è un po quello che abbiamo trovato grazie al progetto su patina bianca era mularia per brevi ceni dico che durante il progetto abbiamo lavorato anche su venturia asperata abbiamo la prima segnalazione in piemonte busto rino red quindi una varietà resistente al momento non preoccupante però appunto sapete che venturia asperata può svilupparsi anche sulle varietà tichiolatura resistenti abbiamo lavorato anche su alternaria che comunque sempre più presente ed è favorita soprattutto sulle varietà dove si riducono i trattamenti per tichiolatura perché meno difesa favorisce funghi magari meno rilevanti secondari quindi macchie a livello fogliari arrossamenti a livello dei frutti poi abbiamo isolato colletto otricum varie specie di colletto otricum che abbiamo visto insieme a anche loro hanno problematiche crescenti di colletto otricum e una prima segnalazione di monilinea polistroma che in questo causa marciume da jeromin che abbiamo anche concluda abbiamo anche in questi anni fatto un po di diagnostica monitoraggio relativamente la presenza di ervinia a milovora e segnalo che come a grinoa è stato messo a punto e validato insieme al servizio fitosanitario della regione piemotte un test diagnostico prova accreditata per il rilevamento di ervinia a milovora quindi con agente del colpo di fuoco batterico e quindi è un test che adesso è accreditato e validato concludo ringraziando tutti voi per l'attenzione ma soprattutto tutte le persone del dell'università che in questo caso hanno contribuito alla realizzazione delle attività di ricerca e grazie a tutti grazie a tutti sui studenti ma dopo ah no facciamo un intervallo facciamo un intervallo no sono qualche due facciamo una pausa però vi dico il perché ok va bene mi stavo confrontando con Lorenzo e suggeriva di fare un breve intervallo di 5 minuti così insomma abbiamo sia la possibilità di attendere l'arrivo del del presidente e anche possiamo insomma scambiare due parole insomma diciamo possiamo andare più tranquilli allora una una pausa facciamo ah sì beh però magari diciamo visto che sono state già due presentazioni se c'è qualche domanda volentieri non sia sul progetto sulle problematiche emergenti no questi va bene facciamo così facciamo la pausa visto che l'avevo già promessa e dopo riprendiamo e ne parliamo bene possiamo riprendere posto la pausa è stata abbastanza sostanziosa e va bene allora sì sì ok in questi minuti in realtà abbiamo scambiato molte domande però se c'è qualcuno che vuole fare una domanda prima di riprendere anche col microfono senza come volete se non ne parliamo tranquillamente ok allora direi che possiamo passare alla terza relazione della mattinata in questo caso invito la professoressa Tavella avrà una presentazione dal titolo recenti acquisizioni su eriosoma la nigerum fitofago nuovamente emergente per la melicoltura e sul suo parassitoide a felino smali stavo leggendo allora va bene mi spiace non sei preparato in entomologia non prendete esempio dovete saperlo il nome del parassitoide allora qui ok perfetto come ha ben spiegato il collega Spadaro noi abbiamo lavorato in questo progetto Smart Apple e a differenza del collega che è partito con il tema dell'intervento e poi ha detto anche le altre attività io spendo subito due slide due diapositive per dire quali erano le attività che abbiamo portato avanti nel progetto perché io qui presenterò solo l'eriosoma la nigerum che è un problema emergente però abbiamo lavorato su altro perché come è stato detto questo era un progetto su delle varietà ticchiolatura resistenti che ci interessava sapere se avessero anche o no sensibilità una maggiore o minor sensibilità alle altre avversità quindi nel mio caso mi occupo di insetti agli afidi all'aliomorfa per cui in questo task 2.2 l'obiettivo era quello di vedere le avversità entomologiche emergenti in meleto come si comportavano su queste varietà oggetto del progetto il monitoraggio degli afidi è stato condotto nel 2019 2020 con analisi visiva dei germogli e ci siamo resi conto che in realtà le varietà a confronto non presentavano differenze significative poi comunque dove abbiamo lavorato continuava ad emergere l'aeriosoma all'anigerum ma non avevamo tutte le varietà a disposizione per vedere se ce n'era una più o meno suscettibile e per quanto riguarda la fispomi si collocava su tutte le varietà senza differenze l'altro discorso era relativo all'alliomorfalis la cimicia asiatica qui abbiamo fatto monitoraggio ma anche qui non abbiamo visto differenze nella presenza della cimici sulle diverse varietà è più legata a differenze in base all'area alla zona che non alla varietà e quindi in questo progetto poi abbiamo voluto vedere se tutte le varietà oggetto della prova manifestavano gli stessi sintomi se attaccate dagliomorfalis e quindi quello che è stato fatto sono state isolate le cimici in gabbie presso il campo varietale agron dove ci sono tutte le varietà a disposizione sono state ingabbiate delle mele messe le cimici in questi isolatori lasciate nel periodo per una settimana di maggior suscettibilità poi rimosse lasciate gli isolatori e alla raccolta le mele sono state prelevate osservate quello che è emerso sicuramente come è già stato detto da Davide Nari che mi ha preceduto la varietà smeralda è quella che già all'atto della rimozione degli isolatori mostrava i sintomi sicuramente quella cioè qui siamo a parità di infestazione per cui non possiamo dire che è preferita o non preferita noi abbiamo forzato la cimice sulle mele e quella che manifesta più sintomi è stata sicuramente la smeralda quindi è una reazione più evidente poi sono state fatte tante altre prove perché abbiamo voluto sentire anche le impronte odorose si può valutare l'attacco della cimice sui volatili emessi dalle mele sane attaccate a confronto si sono viste si sono fatte delle analisi sensoriali eccetera ma questa è tutta una tematica che è molto lunga da sviluppare quindi non porto via altro tempo se non per dire che alla fine quella che è emersa più suscettibile che manifesta di più all'attacco di agliomorfalis è sicuramente smeralda dopo la conservazione anche ambrosia e storinore hanno mostrato dei sintomi maggiori più significativamente più significativi rispetto le altre passo quindi all'altro noi eravamo anche impegnati in questo WP3 sensoristica per la diagnosi dell'avversità del melo poi con lockdown eccetera qui dovevamo fare tutta un'altra cosa un'altra tematica affrontare però nel corso dei primi due anni si è visto che uno dei principali problemi che sta affrontando la melicultura nella nostra regione e non solo è sicuramente gli attacchi la recrudescenza di un fitofago che in realtà è ben noto che è l'Eriosoma lanigerum l'Eriosoma lanigerum qui lo vedete nell'immagine le colonie e qui vediamo il suo parassitoide a felinus mali questo Eriosoma lanigerum possiamo semplicemente ripercorrere dare ancora qualche notizia è una specie esotica ormai non la consideriamo più esotica ma non è originaria della nostra zona è di origine neartica arriva dal Nord America è stato segnalato però per la prima volta in Europa nel 1787 quindi si parla ormai di una specie che è diventata possiamo dire cosmopolita però c'è una grossa differenza tra quello che svolge il ciclo che svolge in America e il ciclo che svolge in Europa perché in America è presente anche l'ospite primario non so se vi ricordate o no ma gli afidi molto spesso hanno un ciclo tra due ospiti un ospite su cui depongono l'uovo con cui svernano e gli ospiti poi estivi in America c'è questo ulmus americano su cui quest'afide migra e compie l'intero ciclo in Europa non c'è per cui si è adattato a svolgere tutto il ciclo sul melo di solito quello che si diceva è che sverna cioè sverna alla base del colletto con queste femmine sempre pronte a dare altre femmine poi in primavera passa alla parte alta della chioma e in autunno riscende verso la parte bassa del tronco questo è il ciclo che abbiamo sempre visto e accertato in Europa proprio perché specie esotica nel 1921 quando dal 1890 1900 è cominciata la lotta biologica che noi chiamiamo classica ossia andare nel paese d'origine del fitofago cercare il limitatore più adatto e importarlo quello che si sta facendo oggi coltrisolcus japonicus colganaspis brasiliensis contro rispettivamente agli omorfalis e drosofila suzuki allora nel 1921 qualche ricercatore entomologo italiano è andato in Nord America ha trovato questo felino smali e l'ha portato e introdotto in Italia in Italia e così come tutta l'Europa questo parassitoide è specie specifico quindi è legato esclusivamente a eriosoma alanigerum per cui non si muove attacca a eriosoma alanigerum tutto il ciclo è svolto su eriosoma alanigerum sverna come pupo larva all'interno degli individui parassitizzati di eriosoma alanigerum e questo cosa fa? fa sì che questa specie possa essere più sensibile alle basse temperature perché è più esposto ma questo poi lo vedremo quindi cosa è successo? in questi ultimi anni ripeto in Piemonte ma non solo in Piemonte perché come è stato detto dal collega Sfadaro anche questo argomento è stato frutto di una collaborazione quando abbiamo cominciato a lavorare sull'eriosoma alanigerum abbiamo visto che anche la fondazione Edmund Mack e la fondazione Leinburg stanno lavorando sullo stesso argomento e allora abbiamo creato dei tavoli con Agrion che ha coordinato tavoli tecnici per mettere tutti insieme in modo da compiere le ricerche con le stesse protocollo se il protocollo di campionamento adottato da Leinburg funziona lo adottiamo per tutte le altre regioni e quindi possiamo parlare i dati che abbiamo recuperato noi quest'anno in questi anni su eriosoma alanigerum sono perfettamente confrontabili con quelli ottenuti in altre regioni allora eriosoma alanigerum è un problema nuovamente emergente quindi ripeto è sempre stato un problema ma probabilmente col discorso di avere tutto una come si dice molti mezzi di lotta quindi tutte un arsenale ecco la parola un arsenale di prodotti chimici che tenevano in freno questo afide non ci siamo mai preoccupati più di tanto invece questo afide sta diventando un grosso problema ma non solo in meleti biologici anche nei meleti integrati perché proprio le molecole che si utilizzavano una volta non sono più utilizzabili e quindi dobbiamo cambiare completamente la gestione però non è solo il discorso del cambio riduzione di principi attivi è anche il discorso che questo afide sta cambiando anche un po' il comportamento ho detto all'inizio che svolge l'estate tutta la stagione nella parte alta della chioma poi in fine estate si porta sulla parte bassa del tronco non è più così quello che era il sentimento l'abbiamo accertato e lo vedremo resta anche sulla parte alta della chioma e questo quindi è una modalità un cambiamento nel comportamento poi l'altro discorso è a felino smali è efficace non è efficace è sincronizzato non è sincronizzato sono tutti argomenti domande a cui abbiamo voluto tentato in questi due anni di portare delle risposte per cui in questo progetto ci siamo concentrati 2021-2022 ad approfondire le dinamiche di popolazione di eriosoma la nigerum insieme al suo parassitoide a felino smali le ricerche qui avete le aziende in cui è stato effettuato si è lavorati quindi per 2021 e 2022 in dieci aziende le dieci aziende sono cambiate qui vedete quindi diffuse su tutto il territorio in provincia di Cuneo alcune delle aziende dei meletti sono meletti bio altri sono meletti integrato ne abbiamo addirittura uno che è partito biologico ma che nel corso della stagione ha dovuto passare a convenzionale proprio perché non riusciva più a tenere in freno eriosoma la nigerum rapidamente i tempi di le modalità di monitoraggio allora la prima cosa abbiamo detto dovevamo verificare se c'è sì o no questo cambio di modalità di svernamento come si fa a vedere se e quando eriosoma la nigerum passa dalla parte bassa alla parte alta si collocano delle strisce collanti due strisce collanti alla base del tronco e poi si valuta visto che eriosoma la nigerum non è a lato deve camminare si sposta camminando quindi noi ci aspettiamo di avere un forte raccatture sulla fascia bassa all'inizio della stagione e poi tante catture sulla fascia alta e fine stagione questo è quello che si è sempre visto per cui monitorando queste strisce ogni due settimane togliendole sostituendole portandole in laboratorio e leggendo si contava se c'erano più afini nella parte bassa soprattutto nella fascia inferiore oppure nella parte alta l'altro discorso era poi andare ad analizzare il grado di infestazione di eriosoma la nigerum per cui in questo caso sempre ogni due settimane sono stati condotti dei rilievi si osservavano 100 germogli per appezzamento e quindi si misuravano il numero di colonie e la dimensione di colonie perché a seconda della dimensione della colonia si dava una classe si attribuiva una classe e si determinava così l'indice di infestazione e anche l'incidenza di infestazione questo per quanto riguarda eriosoma la nigerum poi ci interessava vedere a felinus mali come si comportava e quindi siamo andati a valutare l'indice di parassitizzazione questo ci dà l'andamento della parassitizzazione cosa si è fatto si sono individuati 10 germogli per meleto fissi segnati contrassegnati con una banda e ogni due settimane si andavano ad osservare queste colonie per vedere quando cominciava si trovava il primo afide parassitizzato all'interno di quella colonia questo ci dice quando si muove la felinus mali poi comunque non è sufficiente vedere quando si muove quando abbiamo il primo afide parassitizzato ma vedere anche quanti di quegli afide della colonia sono parassitizzati questa è l'incidenza di parassitizzazione per cui ogni due settimane si osservavano 10 campioni per appezzamento 10 colonie si portavano nel laboratorio si osservavano e si vedevano quanti erano parassitizzati in ultimo quello che ci serviva ancora è vedere quanto vola in che periodo vola questo afelinus mali per cui in ogni appezzamento meleto è stata collocata una trappola cromotattica una trappola adesiva gialla che cattura che attrattiva per afelinus mali portate cambiate anche questo ogni due settimane da marzo o novembre portate in laboratorio e osservato il numero di afelinus mali quindi le attività come vedete sono state condotte da inizio primavera da primavera ad autunno questi sono i risultati allora primo risultato relativo alle fasce collanti sul tronco abbiamo fatto una cernita quindi sono alcuni esempi di meleto questi sono in verde ecco posso dire che in verde sono i meleti biologici in arancio sono i meleti integrati allora qui vedete up sta per le fasce superiori e down per le fasce inferiori cosa possiamo vedere possiamo vedere che ad eccezione del primo caso in cui è vero all'inizio della stagione avevamo più catture sulle fasce inferiori nel 2021 sulle fasce inferiori e meno sulle fasce superiori ma solo in questo caso negli altri in realtà il numero di catture è esattamente identico con lo stesso andamento sulle fasce anteriori superiori e inferiori in questo caso guardate allora puntinato è la fascia inferiore 2021 tratteggiato la fascia superiore 2021 abbiamo lo stesso andamento che invece noi ci saremmo aspettati un andamento prima della fascia inferiore e poi della fascia superiore quindi ci ha molto colpito e questo anche nel meleto a gestione integrata quindi questo movimento sopra sotto non è cadenzato dalla stagione questo è l'indice di infestazione media stagionale allora questo cosa possiamo dire ripeto in verde sono le aziende i meleti biologici e in arancione quelli integrati possiamo innanzitutto vedere questo è un indice di infestazione media per cui è quanto abbiamo diciamo che quando abbiamo un'infestazione sopra 10 abbiamo un'infestazione veramente già notevole possiamo vedere subito dalla primo aspetto che le aziende biologiche i meleti biologici sono sicuramente più colpiti rispetto ai meleti integrati anche se ripeto qui abbiamo un meleto a gestione integrata che non è significativamente diverso le ha la lettera uguale vuol dire stesso tipo di infestazione abbiamo un'infestazione molto elevata anche in un meleto integrato l'altro fatto che emerge da questo grafico possiamo dire che il 2020 è stata un'annata molto più preoccupante che non il scusate il 2021 è stato molto più preoccupante infatti vedete con le fasce piene sono tutti grammi pieni sono il 2022 sempre più basse le infestazioni rispetto al 2021 l'annata 2022 è stata caratterizzata da molta città molte temperature molto elevate a felinus ha lavorato molto bene quindi questi sono tutti fattori che mettiamo sul tavolo e che poi andremo ad elaborare meglio magari con un'altra annata eccetera questo quindi è l'indice di infestazione questa è l'incidenza media stagionale l'incidenza ci dice solo qual è la dimensione delle colonie quanto sono estese queste colonie quindi sopra sedere però diciamo sempre 2021 molto più preoccupante rispetto al 2022 questo invece è un altro tipo di elaborazione allora qui vediamo questo è 2022 abbiamo detto che 2022 c'era un'infestazione leggermente inferiore ma abbiamo voluto mettere l'indice di infestazione in correlazione col numero cioè con la presenza di afidi sulle fasce inferiori stesso discorso allora qui cosa ci aspetteremmo ci aspetteremmo di avere la curva degli afidi sulle fasce inferiori alta e seguire poi il picco dell'indice di infestazione perché dal basso devono salire se io guardo i germogli sopra prima devo trovarle sulla fascia bassa e poi le trovo sopra invece no vedete i picchi sono quasi sempre anzi in alcuni casi sono addirittura dopo sulla fascia inferiore no scusate ecco questo poteva essere però abbiamo dei picchi che sono abbastanza contemporanei per cui ripeto questo ha conferma di questo differente comportamento sverna sulla parte alta della chioma non cerca più il riparo nella parte bassa ma comincia nella parte alta e questo è il dato che è emerso ed è stato confermato con questa indagine nel 2022 catture passiamo all'antagonista la felino smali allora la felino smali tutti sostengono e si dice ci sono bibliografie che è lento è tardivo a riosoma la nigerum parte presto e a felino smali arriva molto tardi questo che possiamo vedere qui è semplicemente le catture medie stagionali quindi mi dà un dato del fatto che a felino smali è ben presente nelle aziende biologiche molto poco presente nelle aziende convenzionali o ipm guardate che differenza qui è un dato medio stagionale per cui abbiamo la deviazione standard ma possiamo vedere che a felino smali c'è nelle aziende biologiche è presente ma molto in piccola quantità sulle aziende bio e qui vedete l'andamento delle catture con le trappole adesive gialle è questo che stavo dicendo che tutti dicono è lento arriva tardi ha una ripresa tardiva in realtà qualche picco qualcosa che si muove già a marzo c'è marzo aprile però poi ha delle flessioni quindi questo è l'andamento in un meleto a conduzione biologica che aveva una buona popolazione di a felino smali e vediamo che abbiamo già uno sfarfallamento il 28 marzo un picco il 18 aprile però segue una caduta e poi abbiamo una grande quantità di individui da giugno luglio per cui il grosso che si vede nei campi si dice la felino sta lavorando è da metà giugno in avanti metà giugno luglio qui queste due le ho messe questi due grafici perché volevo farvi vedere la differenza ho segnalato questa linea 0 1 e 0 1 guardate la differenza tra un meleto a conduzione integrata e un meleto a conduzione biologica la quantità in un meleto a conduzione biologica è dieci volte quella di un meleto convenzionale quindi questo ricordiamolo questa è la linea i grafici non li ho messi con la stessa scala se no non avremmo visto niente in questo questa linea praticamente il picco del 18 aprile è pari al picco del 27 giugno nell'azienda convenzionale allora andiamo a vedere un attimo il discorso delle temperature questo è un grafico molto complicato e abbiatene questo è tutto il dato della temperatura media le temperature giornaliere con le minime e le massime e qui sopra quello che vedete è come il cumulato dell'eriosa malanigerum mi dice l'indice di infestazione quindi vedete che l'infestazione di eriosoma lanigerum comincia presto a giugno a inizio giugno mentre il nostro buona felinus il numero di individui che avevo per trappola è molto più spostato quindi si conferma questa attività spostata però noi dovremmo anche andare a vedere qui adesso non vi faccio vedere il grafico in realtà vi ho fatto vedere prima che un po' cominciava già marzo un po' cominciava ad aprile però poi abbiamo avuto queste basse temperature quindi temperature a zero al 6 aprile si è verificato tra il 6 e il 13 aprile una temperatura inferiore a zero gradi quindi quei picchi freddi a inizio stagione sono quelli che probabilmente fanno sì che a felino smali sia così in ritardo non è in ritardo di per sé ma è molto più sensibile alle basse temperature che non il suo ospite e questo fa sì che lui comincia ma se poi si verifica come si sta succedendo in questi anni continuano a verificarsi temperature partiamo con le temperature alte poi ad aprile abbiamo delle mazzate di cali di temperatura e quindi questo è uno delle acquisizioni questo invece è per far vedere quando questo nostro a felino smali arriva e funziona cioè questa è col verde l'indice di infestazione e in blu l'incidenza di parassitizzazione possiamo vedere che a luglio in tutte le aziende a luglio abbiamo il 100% di incidenza di parassitizzazione vuol dire che voi non trovate più un afide se prendete le colonie sono tutti parassitizzati e infatti questo l'ho visto le poche volte che io riesco ad andare in campo veramente nel 2021 mi è capitato in un meleto era straordinario c'era per ogni foglia 10 a felino smali 15 a felino smali che giravano per cui la popolazione a luglio metà luglio è veramente alta l'incidenza è alta però l'indice di infestazione è partito decisamente prima e quindi noi dovremmo riuscire vediamo che a felino smali quando comincia a lavorare funziona dovremmo riuscire ad avere questa curva dell'incidenza di parassitizzazione traslata di 15-20 giorni anticipata quindi vado a concludere questo discorso dell'eriosoma alanigenum poi se ci sono domande possiamo discuterne di più i livelli di infestazione generalmente più elevati meleti a gestione biologica tuttavia non trascurabili meleti a gestione integrata quindi diciamo che questo eriosoma alanigenum è un'emergenza che va è una nuova emergenza come ho messo nel titolo è una nuova vecchia emergenza perché è un insetto che abbiamo da tanto e con cui conviviamo da tanto però sta diventando un problema quindi dobbiamo riuscire a capire quali strategie mettere in atto adesso sul tavolo ce ne sono tante che andranno convalidate provate gestite convalidate nei prossimi anni i livelli di infestazione sono influenzati dalla cultivar dall'età e le condizioni della pianta si avvantaggia di piante come è stato anche detto stamattina già molto vigorose rigogliose quindi probabilmente anche lavorando con la gestione della pianta si può aiutare e poi ci sono alcune cultivar tutto il gruppo Fuji è molto più suscettibile però quello che fa la differenza secondo me e che bisognerà vedere è questo discorso dello svernamento che non è più solo in zone riparate alla base del tronco ma anche nelle parti aeree ed è questo che fa sì che le infestazioni di eriosoma non partano prima a felino smali starà magari svernando in basso per cui questo ha completamente cambiato il ciclo poi a felino smali è maggior sensibilità al freddo rispetto all'ospite questo è sicuro ma infatti ripeto stamattina l'ho già detto qualcuno mi ha contestato sono vecchia quindi quando ho studiato io entomologia si diceva che una buona pratica era prendere i rami infestati da eriosoma lanigerum con la parassitizzazione e metterli sotto il magazzino sotto una tettoia perché a felino smali è più sensibile alle basse temperature del suo ospite quindi bisognava tentare di ripararlo quando gli inverni erano più freddi di quello che sono adesso ripararlo quindi questo l'abbiamo confermato maggior sensibilità al freddo rispetto all'ospite però c'è da dire anche un'altra cosa sensibilità diverse molecole insetticide utilizzate in meletogestione integrata per cui il fatto che sia più sensibile alle basse temperature ma anche lui esce presto in stagione ma è il momento in cui si fanno i trattamenti si fanno i trattamenti contro gli afidi e quei trattamenti lì vanno di nuovo quindi è colpito dalle basse temperature è colpito dai trattamenti ed è logico poi che confermiamo una ripresa tardiva dell'attività del parassitoide a inizio stagione per cui noi dovremmo lavorare per cambiare o comunque far sì che questo afelinus malis possa essere entrare in azione prima ed essere più efficace prima perché poi quando arriva in funzione vi assicuro che la parasitizzazione è veramente molto elevata si possono poi avere delle variazioni nel senso che arriviamo al 100% poi c'è più afelinus che eriosoma quindi si ha un crollo dell'afelinus una risalita dell'eriosoma ma questo è fine stagione per cui sicuramente bisognerà lavorare a questi aspetti quello che noi stiamo già facendo in corso in quest'anno è quello di fare indagini sullo svernamento di eriosoma alanigerum e di afelinus mali stiamo controllando settimanalmente delle colonie per vedere qual è l'attività e eriosoma alanigerum praticamente se vogliamo semplificare non ha mai smesso l'attività l'afelinus mali adesso vediamo e quindi ci sarà ci sono anche ricerche adesso visto che parliamo delle sostituzioni ci sono ricerche in altre parti del mondo dove stanno lavorando ad esempio con delle piante ci sono delle piante che sono ospiti di un eriosoma che non passa su melo e sono ospiti anche della felinus mali per cui tentare di integrare nella gestione del agroecosistema con delle strategie che possano comunque far sì che questo felinus mali parta prima e non venga a essere limitato poi dalle altre con questo ringrazio tutti quelli che hanno collaborato alle ricerche che sono tanti e voi bene grazie Luciana anche per questa interessante presentazione c'è qualche domanda al brucio no altrimenti ci spostiamo verso sì sì vai bene voi scusatemi non voglio rubarvi tanto altro tempo ma effettivamente seguendo un po' le relazioni devo fare i complimenti per il livello di lavoro che avete sviluppato in questi anni e credo vorrei far notare alla platea di fronte ai problemi noti e che abbiamo affrontato stamattina la positività di questo metodo nel senso che in campo e sulle piazze e i bar di soluzioni ce ne sono sempre tantissime uno ha l'imbarazzo della scelta può applicare poi quella che vuole la capacità che dobbiamo avere come filiera è quella di mettere in piedi un sistema di ricerca applicata di ricerca di soluzioni in campo basate comunque su dei protocolli poi vanno bene le osservazioni e le proposte di tutti quello che mi spaventa di più nel settore spesso è l'improvvisare dire ma provo così e soprattutto poi di fronte a una prova il leggerla in funzione di quella che è una sensazione personale dell'agricoltore lo dico da agricoltore quindi credo che noi dobbiamo avere la capacità e lo porto come esempio ci sono anche studenti e quindi potete capirmi benissimo di costruire un percorso di questo genere di qui ne va la competitività del nostro settore quindi il lavorare in un certo modo non è per far primeggiare o per voler far prevalere una tesi rispetto alle altre le dobbiamo valutare tutte le tesi ma partendo da una conoscenza di quelli che sono i parassiti i funghi eccetera e cercando poi di valutare qualsiasi tesi con dei protocolli ben definiti vi farei scusatemi non volevo far perdere del tempo mi sembrava importante farvi notare questo questo è quello che può fare la differenza si rispettano le idee di tutti ma poi tutti quelli che hanno delle idee devono avere la disponibilità a metterle in gioco in un meccanismo di questo genere in modo che poi possiamo restituire a voi aziende un risultato che è concreto e soprattutto oggettivo rispetto a quello che è il problema che abbiamo in campo scusatemi mi sembrava doveroso e con questo faccio ancora i complimenti a tutto il gruppo di ricerca compreso tutti i tecnici che hanno lavorato con le aziende quindi ringrazio anche non l'ho fatto prima le OP che ci hanno dato una mano su questo percorso scusate grazie grazie un'ottima puntualizzazione ok allora ci spostiamo alla quarta relazione quella finale della mattinata viene presentata da Luca Nari e il titolo è strategia di difesa il confronto tra varietà convenzionali e varietà resistenti a ticchiolatura a te buongiorno a tutti allora sì io premetto già che la mia un po' più stringata ecco relazione ma va diciamo nella parte più pratica quindi per voi produttori quello che tutto questo lavoro poi in cosa viene tradotto viene tradotto nella strategia di difesa ecco e in particolare nella mia relazione farò una un'analisi questo confronto tra una varietà diciamo convenzionale e una invece quelle diciamo oggetto di studio a ticchiolatura resistenti ecco prima di andare un po' analizzare le diverse problematiche ecco qui ringrazio i tecnici del coordinamento perché sono dati loro che noi elaboriamo come come agrion e che praticamente ci mettono in evidenza le tre avversità che dal 2005 ecco al 2000 2020 e soprattutto le due fungine ecco poi sulla fine c'è anche si è aggiunto negli ultimi dal 2015 2016 la cimice ma prendendo in analisi ticchiolatura e oidio qual è il carico di trattamenti che una un'azienda deve sostenere annualmente ecco e vedete qua ci sono dei numeri diversi ecco il clima gioca un ruolo fondamentale come sappiamo quindi ci sono annate vedete il 2013 2014 che solo per la ticchiolatura sono stati necessari 17 18 interventi ecco poi gli ultimi anni abbiamo anche avuto un clima un po' più secco in primavera e quindi il numero è sceso è sceso la ticchiolatura però ha aumentato lo idio perché sappiamo che quando abbiamo queste condizioni il rischio della ticchiolatura scende un po' ma invece lo idio ecco diciamo di nuovo un'altra emergente ecco se vogliamo come dal punto di vista dell'avversità e poi ecco qui ho anche messo la cimice ne ha parlato prima la professoressa Tavella perché anche qui i primi anni in cui è arrivata al numero di trattamenti medio ecco per appezzamento ecco questa è una media ecco non è proprio tutte tutte le aziende fanno così ma era importante poi ultimamente anche qui stiamo stiamo riducendo anche grazie all'introduzione del trisolcus eccetera comunque in media negli ultimi 15 anni per l'articolatura servono dai 12 13 14 trattamenti a seconda della stagione 3 4 5 per l'oidio a seconda delle zone della varietà comunque sono necessarie ecco ecco quindi passo alla successiva che diciamo sull'articolatura perché parliamo di resistenti a questa avversità e sicuramente da questo punto di vista aiutano le reticolature resistenti perché se analizziamo il numero di trattamenti necessario hanno questo scende in modo molto significativo ecco sulle resistenti andiamo a concentrare la difesa sulle 3 4 5 dipende dall'annata infezioni più più importanti diversamente siamo più tranquilli e non solo si riduce il carico di interventi ma al tempo stesso la finestra di intervento è più ampia quindi non dobbiamo correre non abbiamo i gradi ora che ci nel cervello che passano minuto dopo minuto ma qui effettivamente abbiamo questa flessibilità che è sicuramente un vantaggio per l'azienda ecco ecco per quanto riguarda l'idea invece la cosa è un po' diversa ecco di sensibilità varietà ne ha parlato prima Davide e quindi non mi soffermo più di tanto però ecco a livello di numero di trattamenti non ci sentiamo di dire che c'è sia una differenza anzi alcune varietà TR sono tra quelle molto sensibili ecco vedete la gala l'abbiamo messa come riferimento perché già la gala non scherza però ce ne sono alcune resistenti che hanno una sensibilità ancora più elevata quindi siamo lì dai due o tre trattamenti prefiorali poi i due o tre postfiorali a seconda ovviamente dell'annata dalla zona sì la zona ultimamente fa meno la differenza rispetto al passato perché c'era una zona storicamente più sensibile invece stiamo notando che anche a causa di queste nuove condizioni climatiche abbiamo zone meno favorevoli dove però lui sta venendo fuori patina bianca ne abbiamo sentito già parlare ampiamente prima già Davide e il professore Spadaro ha fatto vedere che la Inored quindi ha una leggera sensibilità più più elevata quindi rispetto alle altre resistenti provate nel questo progetto diversamente non abbiamo visto delle grosse differenze ecco qui ad oggi non abbiamo prodotti se non appunto iniziare primis con la progettazione del meletto evitare queste varietà più resistenti come l'ambrosia in quelle zone più sensibili più umidi eccetera e poi ovviamente lavorare sull'agronomia ecco per questa riduzione di agrofarmaci che stiamo vivendo che quindi continuerà con la strategia from far to fork dovrà essere in parte diciamo controbilanciata da altri altri sistemi sicuramente l'agronomia è uno di questi sul quale noi stiamo lavorando di più ecco in questi anni sui secondari patogeni secondari qui attenzione perché è vero che trattiamo meno per la latticchiolatura ma poi annate più predisponenti come il 2020 hanno mostrato invece tutta una serie di altri funghi patogeni quali l'alternaria marsonino la flyspec eccetera poi anche qui tra le resistenti diciamo quella buccia gialla sono più sensibili all'alternaria in genere la dalinette un po' più la marsonina flyspec lo diceva già da Davide prima la inore le storie eccetera quindi se uno ha queste varietà nel proprio paniere varietale dovrà tenere in considerazione che da fine maggio in giugno se lì le piogge persistono bisognerà fare qualcosa in più anche contro questi patogeni ecco cimice asiatica non entro più di tanto nel merito l'ha già detto la professoressa Tavella quindi la smeralda è tra quelle assaggiate quella più più sensibile ecco ricordo solo che la strategia di difesa contro la la cimice non è solo trattamenti ecco perché sappiamo bene il limite di questi di questa impostazione quindi passa prima di tutto dai controlli visivi e qui i tecnici annualmente fanno dei grossi lavori ma non non è sufficiente servono anche i produttori ecco che facciano i loro controlli nei propri appezzamenti e sicuramente se invece parliamo di biologico oltre a tutto questo sistema di monitoraggio eccetera qui le armi sono ridotte ancora di più quindi si deve pensare a escludere in qualche maniera l'entrata dell'insetto quindi le barriere fisiche anche qui ne abbiamo già fatte di prove e hanno un senso quindi funzionano sebbene posizionate al tempo giusto e evitando l'apertura ecco quindi diciamo che qui una strategia non può passare solamente dal trattamento ecco ecco sugli afidi per quanto riguarda il grigio ecco quindi la disaffis plantaginea la crimson crisp ha dimostrato in pieno campo una tolleranza un po' più elevata altrimenti non ci sono differenze e come diceva anche già prima professoressa Tavella sull'anigero queste non sono state osservate ecco quindi un po' tutte le varietà hanno una sensibilità ecco di fisiopatie e carenze non ne ha parlato Davide per quanto riguarda la Inored Story quindi questa problematica dell'imbrunimento interno quindi non mi soffermo ecco sempre la Inored Story ha dimostrato in questi anni e grazie a questo progetto siamo anche riusciti a evidenziarlo questa sensibilità alle carenze di boro ecco non è una cosa generalizzata è più localizzata sui bordi degli appezzamenti magari laddove si fanno delle lavorazioni del suolo quindi ci sono degli spostamenti ecco di terreno più fertile da quelle zone allora sì bisogna fare attenzione se c'è questa sintomatologia può essere riferibile a una a una carenza di questo elemento ecco ecco in conclusione questo un tabellone dove abbiamo preso in considerazione tutte le diverse varie avversità in funzione della fase fenologica quindi questo è un po' quello che trovate sulla nostra guida agria il calendario dei trattamenti che si va a consigliare non sono entrato nel merito dei principi attivi ma più che altro per capire la differenza dal punto di vista numerico tra una varietà TR quindi la strategia di difesa tra una varietà TR e una convenzionale è ovvio che se diciamo non ci sono problematiche particolari il risparmio di trattamenti di numero di trattamenti è importante ecco anche un 50-60% in meno quindi questa è stata un po' la conclusione ed è un filone sicuramente di ricerca in ottica from far to forth che è sicuramente importante perché come sappiamo venendo meno tutta la parte della riduzione importante del numero dei principi attivi la genetica ci dovrà sempre più venire incontro ecco quindi qui non mi addentro ma questo diciamo il lavoro che sta facendo Agrion da anni su queste tipologie di varietà sicuramente è importante a livello territoriale ecco qui concludo grazie a tutti grazie Luca sono contento che abbia potuto raggiungerci il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Ezio Raviola magari visto che avevamo fatto una breve introduzione del progetto la riprendo solo per inquadrare un po' quello che è stato il nostro il nostro lavoro che è stato un lavoro nel cercare di sviluppare le nuove varietà resistenti a ticchiolatura tra Università di Torino abbiamo lavorato con Fondazione Agrion con due enti internazionali uno israeliano e un americano con tre OP organizzazioni di produttori la Rivoira la Gnasco Group e Orto Fruit Italia quindi questo è un po' stato l'ambito del progetto progetto che è durato quattro anni ha ricevuto un finanziamento di 259 mila euro da fondazione CRC ed è stato cofinanziato da tre organizzazioni di produttori del territorio poi avevamo ancora mostrato vari risultati che sono stati disseminati nel corso dei quattro anni di progetto progetto leggermente rallentato dal covid che ha bloccato l'annata 2020 quindi avevamo chiesto poi una proroga queste sono alcune delle iniziative di divulgazione e poi volevamo ancora dire che è stato un progetto che ha permesso anche un'azione di leverage cioè di far partire altri progetti di ricerca collegati sia a livello europeo sia al piano nazionale di resilienza sia a collaborazione con altre fondazioni in Alto Adige in Trentino e anche all'estero quindi ringrazio e lascio la parola grazie e intanto buongiorno a tutti mi fa molto piacere vedervi così numerosi qui all'interno del nostro spazio incontro saluto il presidente di Agrion Giacomo Ballari saluto tutte le persone tutta la fondazione Agrion e tutti i presenti abbiamo parlato di innovazione io sono particolarmente felici di avervi oggi qua anche perché nel nostro piano programmatico plurinare noi abbiamo proprio una parola chiave che si chiama più sostenibilità quindi io penso che lo sviluppo green che voi avete proposto oggi queste ricerche che tra l'altro partono da lontano perché noi ci tengo a ricordare che già nel 2018 con il quaderno 35 avevamo parlato di questa che si chiamava proprio coltivare innovazione avevamo avevamo parlato di queste di queste innovazioni di questo importante passaggio che il nostro territorio necessitava e quindi poi negli anni siamo passati ad sostenere l'agglomamentare 4.0 che è stato l'investimento più grosso che la fondazione abbia fatto oltre 3 milioni di euro e questo progetto fa parte di questo importantissimo investimento che la fondazione ha fatto per il nostro territorio abbiamo poi fatto nel 2019 il progetto SMAC che ha permesso a 29 imprese locali di innovarsi di riuscire a farsi conoscere sul territorio internazionale perché molte volte le imprese specialmente quelle a uso agricolo lavorano 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 ma non riescono a farsi conoscere in giro per il territorio e la cosa più importante era anche riuscire a fare la tracciabilità dei prodotti di qualità che sono medi in Italia specialmente medi in Cuneo e quindi questo nostro progetto è stato un progetto molto importante tra l'altro con partner appunto Polo Agri-Fug Milac l'Università di Polenzo Unito quindi è stato un progetto molto importante che poi ha portato alla nascita di Filiera Futura Filiera Futura è la prima società in cui 20 fondazioni a livello nazionale oltre a tre università Unito Università di Udine e chiaramente l'Università di Polenzo e due associazioni di categorie col diretti e con fartigenato impresa hanno aderito questa è una sicuramente un'operazione importante perché dalla provincia di Cuneo ci siamo allargati un po' in tutta Italia ed è stato questo progetto è stato anche più riconosciuto a livello nazionale da Acre che è un'associazione che diciamo collega tutte le fondazioni quindi è un progetto che potrà ancora crescere sempre su questo settore quindi io sono convinto che noi abbiamo anche fatto Barolo in Premier che è questo innovativo progetto vedo tanti giovani dedicato agli studenti della scuola enologica di Alba noi abbiamo comprato questa vigna Gustava che è una delle più belle vigne della nostra provincia proprio si affaccia dal castello di Gallo Grinzane la vigna del Camillo Conte di Cavour questa vigna che viene era sempre stata data come un dato d'uso alla scuola enologica che ha creato i migliori enologi oggi a livello internazionale ma che aveva bisogno di ripartire quindi aver potuto dare questa vigna confermare il comandato d'uso questa vigna alla scuola enologica aver messo a disposizione un professione come Donato Lanati aver prodotto questo Barolo di ottima qualità sicuramente dei migliori perché poi l'abbiamo fatto anche analizzare da Galloni che è uno dei migliori tre critici a livello mondiale abbiamo creato appunto queste quindici barricche che quest'anno siamo stati l'anno scorso perché ormai siamo già nel 2023 nel 2022 è stata la seconda edizione e abbiamo messo all'asta e sono state il primo anno abbiamo ricavato 660 mila euro tutti chiaramente donate dalle charity perché le spese non tutte a carico della fondazione quest'anno siamo riusciti ad ottenere 840 mila euro perché 70 produttori hanno donato anche l'oro e il barolo ecco abbiamo creato un qualcosa di unico che fa da una parte crescere il nostro territorio e dall'altra fa beneficenza quindi io penso che e concludo perché sono già arrivato tardi voi da stamattina che siete qua penso che incontri come quelli di oggi siano incontri molto importanti che fanno crescere fanno crescere il territorio fanno capire ai giovani che la nostra provincia è una provincia più che attiva è una provincia che si basa anche sui prodotti agroalimentari e che quindi innovare quindi qui leggo smart Apple tecnologie innovative smart per la produzione sostenibile di mele penso che sia la cosa più importante perché oimai questo è quello che usiamo tutti i giorni quindi dall'allarme dai elettrodomestici e quindi dobbiamo andare tutti su quella strada quindi grazie di essere stati qui presenti e di aver scelto noi per questo importante convegno sì ci tengo ancora a sottolineare che fondazione CRC negli anni ha avuto diversi bandi di questo tipo e che comunque hanno tutti questi bandi hanno contribuito a far crescere insomma sia la collaborazione tra università fondazione Agrion altri enti sul territorio assistenza tecnica e produttori quindi cercando di collegare la filiera e secondo me quella formula che è stata proposta dal bando agroalimentare 4.0 è stata comunque una formula vincente su diverse filiere sia quella vitivinicola quella frutticola quella cerealicola anche la partecipazione desidero ringraziare di fondazione CRC a fondazione Agera nel senso che comunque la partecipazione a questa unione di fondazioni bancarie a livello nazionale ha permesso di portare progetti di ricerca di raggruppare anche finanziamenti più significativi e quindi insomma in questi anni ha sostenuto in vario modo le iniziative sia delle università piemontesi che degli enti presenti di ricerca e anche di assistenza tecnica quindi con questo ringrazio e anche ringrazio di aver trovato il tempo nonostante il cui proprio può per venire insomma a partecipare grazie ancora ok direi che eravamo arrivati al termine della nostra insomma della nostra mattinata se c'è qualche domanda ancora se vogliamo insomma oppure se ci riteniamo soddisfatti della mattinata direi di ringraziare tutti voi che siete venuti questa mattina ringraziare l'istituto agrario Virginio Virginio qua di Cuneo e insomma i vari tecnici che hanno scelto di partecipare i membri di fondazione Agrion dell'università di Torino le varie op che hanno partecipato i tecnici che partecipano anche al coordinamento di Agrion che hanno permesso la realizzazione di questo progetto che come abbiamo visto comunque lancia spunti ma come sempre la ricerca apre nuove domande quindi avremo modo di cercare di capire come proseguire per raggiungere sempre una melicoltura che sia comunque competitiva sostenibile e faccia insomma faccia fronte anche le problematiche che vengono fuori dalle politiche europee dal farm to fork dalla riduzione di agrofarmaci problemi di elasticità eccetera quindi non siamo sicuramente in una situazione favorevole gli ostacoli sono tanti ma anche le opportunità di crescita quindi grazie a tutti per questa mattinata grazie a tutti grazie a tutti